In piazza dei Martini numero 6 di Battipaglia si verifica un inconveniente veramente da parecchio tempo. Al terzo piano di questa palazzina abita il signor Massimo De Rosa. Allora Massimo, a chi ti sei rivolto per questo problema di umido che c'è da tre anni? Pure al comune, per tre anni non c'è sempre. E che ti ha detto il comune? Il comune ci hanno fatto la lettera e hanno mandato già. Solo questo hai fatto? Hai chiesto al comune e poi? E poi solo questo ho fatto. Ora tu che cosa chiedi? Di venire a giustare nel bagno. Ma nemmeno il comune ti ha aiutato? Nemmeno il comune mi ha aiutato. Questa è la situazione dell'appartamento di Massimo De Rosa. Una situazione veramente abominevole. Sono tre anni che chiede l'intervento e quindi bisogna muoversi. Nell'appartamento a fianco di Massimo De Rosa c'è la signora Clara Gutz-Smith. Krum-Smith. Krum-Smith di origine tedesca. Signora, lei pure si è rivolta all'ACP Futura? Sì, sì. E che cosa le hanno? Sono solo promesso che venivano, ma non sono mai venute. E da quando dura pure a lei questa situazione? È lo stesso, come a Massimo. Grazie.